Oggi giocheremo un po' alla tombola, giocheremo e faremo la tombola delle 20 regioni italiane. Ognuno di voi avete una cartella e io ora chiamerò tutte le regioni italiane una per una. Vediamo chi vincerà. Prima regione, Umbria, se avete l'Umbria marcatela nel cartellino, Umbria. Puglia, Puglia, Veneto. Abruzzo, Abruzzo. Lazio. Puglia, 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 Puglia.